E ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. E allora oggi volevo fare con voi un discorso inerente all'automotiva elettrica, la rigenerazione in frenata. Che cos'è ragazzi? Che cos'è? E non è altro che l'utilizzo contrario del motore della vettura elettrica, al posto diciamo di accelerare, perciò mandare elettricità a quel motore. Tu cosa fai? In discesa ovviamente non premi l'acceleratore, perciò non mandi energia a questo motore, perciò non ti consumi energia delle batterie. E non accelerando e hai questa discesa davanti, cosa fai? Nulla. Nulla. Non schiacci l'acceleratore, non schiacci il freno se la discesa non è troppo pendente, ovviamente. E dunque l'auto scende, scende piano piano o in base poi ai chilometri orari della percorrenza. Però ragazzi, nello stesso tempo che l'auto scende, il motore elettrico secondo voi è fermo o gira? Gira ragazzi, il motore elettrico gira ugualmente. Perché? Perché è connesso tramite ruote dentate, è sempre interconnesso alle ruote. Perciò se le ruote ti girano, ti gira anche il motore. Perfetto. Girando questo motore elettrico e non avendo, diciamo, l'input dell'accelerazione, il sistema cosa fa? Sfrutta la rotazione del motore elettrico per generare energia elettrica. Perciò vuol dire che se tu non premi l'acceleratore e sei in una discesa, il tuo motore elettrico della tua vettura elettrica, però non è solo le vetture, lo saranno anche i furgoni, lo saranno anche gli scuderi elettrici, le mode elettriche. Perché ragazzi, il funzionamento è come quello, per esempio, di un alternatore, di una dinamo. Se tu lo fai girare, lui ti produce tot, voltaggi tot o correnti. Perciò il mio discorso qual è? Il mio discorso è quello che se un normale motore di un'auto elettrica può fare sia da generatore di elettricità che da utilizzatore di elettricità, perciò ti spingerà la vettura, io mi chiedo, e ora ve lo chiedo anche a voi, perché le case costruttrici non prendono un motore elettrico e lo mettono fisso, sempre fisso, attenzione, connesso alle ruote? Per esempio, se io ho una vettura che ha ruote motrici anteriori o posteriori, che sia, perché non montano nelle ruote libere un motore elettrico da tot kilowatt di potenza che mi genera sempre energia elettrica e non mi ricarica le mie batterie? Cioè, ragazzi, io penso che non ho scoperto l'America, sono discorsi che chi mastica un po' la tematica ci avrà già pensato, si sarà fatta questa domanda. Sento in giro gente che vuole montare una ventola per far generare energia e sento altri e ci sono anche case automobilistiche che vogliono montare i pannelli solari ma io mi spiego una cosa perché montare i pannelli solari che ormai è saputo che purtroppo hanno un'efficienza bassa e non puoi tu ricoprire il tetto della vettura e ricaricarti la batteria di potenza di un'auto elettrica perché? Perché è quello che va a generare quel piccolo fotovoltaico non è abbastanza per ricaricare realmente quella batteria se noi vogliamo invece andare ad abbattere le ricariche e non andare alla colonnina a ricaricare o andare a ricaricare la metà delle volte in colonnina cosa si dovrebbe fare? Montare un motore parallelo all'impianto di distribuzione cioè si potrebbe anche mettere affiancato a quello motrice tramite ruote dentate con una buona proporzione diciamo di numero di giri cioè se il motore motrice fa 10 giri al motore che al generatore non motore che per la fine è sempre un motore va bene al generatore gliene faccio fare 20 ok perciò cosa vuol dire? che io sfruttando i 10 giri del motore faccio fare 20 giri al generatore quel generatore mi gira e mi genera elettricità che io mando alle batterie ok perciò uno consuma elettricità e l'altro genera elettricità ragazzi tutto sommato è una cosa semplicissima è una cosa banalissima e i costruttori lo sanno e infatti hanno inserito questa frenata rigenerativa però si limitano ragazzi si limitano perché l'elettrico si può gestire cioè tu facendo un impianto simile non ti dico che non andrai più a ricaricare alle colonnine che la tua auto sarà autosufficiente no perché può capitare che consumi più di quello che ricarichi ma alla fine sai com'è se tu acceleri e vai forte perciò consumi più batteria nello stesso tempo il motore che ti genera elettricità ti genera di più perché? perché i numeri di giri sono molto più alti perciò è tutto direttamente proporzionato poi ancora di più se vai a montare un generatore con ottime potenze è normale che ti darà tanta 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 potenza e ricarica ci vorrà tempo ovviamente non potrai fare una ricarica completa in 10 minuti di percorrenza come è giusto che sia ragazzi però alla fine che cosa ti cambia? ti cambia quei 15 kg, 20 kg in più di peso ti cambia di progettare diversamente l'impianto di distribuzione e che ci fa? ti cambia qualche centone in più che poi se vogliono lo inseriscono come di serie senza farti pagare quella cosa in più l'unica differenza ragazzi tirando le somme è una sola e che non possono perché così non andremo più a caricare né nell'abitazione né nel garage né anche nelle colonnine perciò tutto quello che che gira e sono miliardi e miliardi di dollari di euro li vanno a perdere però sappiate che è possibile farlo non lo dico io ma lo dicono tantissimi studi fatti non solo in Unione Europea ma molti di più in America che lì sono molto più avanti di noi lì si costruiscono le auto elettriche customizzate cioè partono da una normale vettura e la progettano da zero e montano le batterie montano il motore montano tutto ciò che serve ragazzi per questo video è tutto se ti è piaciuto lascia un like commenta fammi sapere tu cosa ne pensi di questa tematica seguimi mi raccomando attiva la campanella sempre e comunque su tutti i video perché se non attivi la campanella non riceverai le notifiche dei nuovi video e niente grazie per la visione ciao e al prossimo video